Questa non è vergogna, è paura. La vergogna è un curvamento di cui tu sei immune, perché sei immune da sentimenti. Tu sei l'uomo della prudenza, del pudore, delle ripugnanze. Tu hai paura di avere qualsiasi contatto, anche il più normale. Nel tuo rigoroso moralismo vuoi fare quadrare ad ogni costo la perfezione delle tue opere con quelle del tuo comportamento. Ogni sentimento lo interpreti come una catastrofe, come una contaminazione irriparabile. Io sono contaminato. Magari tu lo fossi. Poter essere debitore verso i propri sensi di una condizione irrimediabilmente corrotta e malata. Che gioia per un artista! Pensa a quanto è arida la cosiddetta buona salute, non tanto quella del corpo, ma specialmente quella dell'anima. Io voglio ritrovare il mio equilibrio. Peccato che l'arte sia così indifferente alla nostra morale personale, altrimenti saresti sommo, irraggiungibile, inimitabile. Dimmi, tu lo sai cosa c'è al fondo della strada maestra? La mediocrità!